Via libera la riforma dello statuto regionale e così ci sarà anche in Toscana un sottosegretario alla presidenza della giunta mentre in consiglio si allargerà sette membri d'ufficio di presidenza. Era questa la seconda votazione, il provvedimento dunque diventa definitivo. Eppure nella seduta del 9 febbraio si capovolgono molte posizioni della prima volta. Nel centro-destra ogni gruppo sceglie una strada diversa e nella maggioranza c'è il no di Italia Viva e la critica che porta la non partecipazione al voto del presidente della prima commissione. I 5 Stelle invece appoggiano la riforma. Il dibattito politico si interrompe doverosamente la notizia di un nuovo incidente mortale sul lavoro stavolta è accaduto nel Pistoiese, si allunga drammaticamente dunque la sequenza. La politica e le istituzioni si interrogano su come fermare una tragedia infinita. Il 10 febbraio anche il Consiglio regionale ha celebrato il giorno del ricordo con una seduta solenne che ha messo in evidenza le discriminazioni, le persecuzioni, le uccisioni nelle foibe di tanti italiani. Di Istria e Dalmazia molti profughi trovarono rifugio anche qui in Toscana. Dura quasi tutta la mattina del 9 febbraio il confronto sullo statuto. Era la seconda lettura. Dopo il voto di settembre ci si aspettava un sì con una larga intesa. Invece, e le avvisaglie c'erano state già in commissione, si sono ribaltate alcune posizioni. Un mezzo terremoto politico insomma che ha portato anche a due sospensioni dei lavori. Dicono sì alla fine il gruppo PD, quello di Forza Italia e i 5 Stelle. La Lega non partecipa. Fratelli d'Italia dice no. No anche dal gruppo misto. Critica e non partecipa neppure Bugliani, PD, che pure è il presidente della commissione che ha esaminato in questi mesi il testo. Ecco il commento a caldo del presidente del Consiglio regionale. Io ho sempre cercato di mandare questo messaggio che lo statuto, come tutte le regole del gioco, bisogna provare a cambiarle a larga maggioranza. Non ci devono essere forzature. È successa però una cosa strana oggi, nel senso che la Lega e Fratelli d'Italia che alla prima votazione avevano votato favorevolmente, stamani mi hanno comunicato alle 10, prima Fratelli d'Italia, poi anche la Lega che non avrebbero votato. E quindi questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare a una larga maggioranza si è poi tradotto in un voto, e anche questo mi ha sorpreso, nel cambiamento del voto del Movimento 5 Stelle. Anche questo deciso in aula, voi stenterete a crederci, ma tutto questo è successo dalle 10 alle 12, mentre stavamo votando. Quindi nessun cambio di maggioranza. La maggioranza è, perlomeno dal mio punto di vista, è solida con Italia Viva. È evidente che il Movimento 5 Stelle, dopo il voto sui grandi elettori, ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando avanti, ma detto questo non cambia nulla. Le novità di fatto sono solo due. L'ufficio di presidenza adesso di 5 membri diventerà di 7, con due nuovi questori e la presidenza della Giunta avrà un sottosegretario. Ma adesso è il momento, qui a Regionando, di tutti i commenti politici. Rivendica la propria coerenza il capogruppo del Partito Democratico. La posizione del gruppo è stata una posizione assolutamente coerente con quello che avevamo votato in prima lettura, tra l'altro approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto di non aumentare i costi, almeno dal punto di vista delle indennità, sull'eccitazione che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della Giunta attraverso un sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato dell'ufficio di presidenza. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo, cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Ma non è così che si sta nelle istituzioni, ciò che accade a Roma, ciò che fa parte del dibattito, del confronto politico, del spappolamento, come loro hanno detto, della coalizione centrodestra non può ripercuotersi sulle istituzioni regionali, in questo caso sulle istituzioni della Toscana. Accuse politiche che i capi gruppo del centrodestra respingono però con decisione. La Lega spiega così la sua decisione di non partecipare al voto. Abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto un'interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E poi il PD è tornato e ha voluto votare, e allora noi abbiamo deciso di lasciare a loro il voto e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po' di confusione, sembra che il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva, stando a quanto vediamo dal voto, anche perché la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare ed evidentemente il 5 Stelle che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il questore spette a una persona del Movimento 5 Stelle? Sceglie il no il gruppo di Fratelli d'Italia. Perché questo cambio di rotta rispetto alla prima volta? Il gruppo di centrodestra hanno votato in maniera differente, ma la notizia non è questa, la notizia è che la modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose, che lo statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze, per esempio l'allargamento dell'ufficio di presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in ufficio di presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle, Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio, le ho detto, non se ne parla. La terza gamba del centrodestra invece conferma il voto favorevole, anche se rilancia il cammino delle riforme. Come Forza Italia rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta avevamo sollevato alcune obiezioni, il non assessore che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di presidenza perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello Statuto che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'ufficio di presidenza, una maggiore rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta, in coerenza rispetto al voto di prima lo abbiamo votato a favore anche oggi, ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio regionale che dobbiamo fare. Lo avete sentito, una sorpresa politica è anche il sì del Movimento 5 Stelle che già si era distinto qualche giorno fa per aver votato Mazzeo, PD, tra i grandi elettori per il Quirinale. Si sta forse spostando l'asse della maggioranza, nota qualcuno, ma la capogruppo del Movimento porta l'attenzione sul contenuto di questa riforma. Questo nuovo Statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di presidenza, che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Nello stesso momento, facendo seguito alle critiche espresse in tutti questi mesi, Italia Viva scava sulla riforma dello Statuto un solco tra sé e il PD. Siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa, abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto il contrario di tutto. Fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi, gran parte dei partiti cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa di un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Avevamo chiesto di fermarsi, di fermarsi, avevamo chiesto di fare le cose tutte insieme. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della regione toscana, con un così basso numero di votanti, che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione, e come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti, ma nel contempo è coerenti della nostra battaglia. Decide di non partecipare al voto il Presidente della prima Commissione, quella che ha esaminato preventivamente la legge, che poi è stata approvata a critiche che pesano dal punto di vista politico. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto, così come voluta dal Presidente della Giunta regionale, che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale, con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso in quel momento, deve avere un senso anche oggi. E siccome oggi questa riforma dello Statuto, oltre alla creazione di un sottosegretario, che era già nell'impianto originario, prevede un allargamento dell'ufficio di Presidenza, quei costi ci saranno e saranno importanti, collegati soprattutto alle strutture e al personale. La consigliera Tozzi, ora del gruppo misto, si oppone con un lungo intervento in Aula. Ascoltiamo le sue ragioni. Noi siamo andati a stravolgere lo Statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in Aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi, ad una infornata di dipendenti, di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatori debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Sanità, l'Assemblea approva gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia regionale. L'atto che secondo parte dell'opposizione doveva essere meglio approfondito viene illustrato dal Presidente della Commissione Sostegni. Sì, assolutamente. Il Consiglio integra gli indirizzi che la Giunta ha elaborato e poi concluderà con le nostre indicazioni, con un'ulteriore delibera nei prossimi giorni. la Commissione e poi il Consiglio ha valutato positivamente gli indirizzi dati dalla Giunta integrandoli con alcuni aspetti che sono una maggiore attenzione a tutto l'effetto del digitale nella sanità è un elemento che sta riorganizzando, sconvolgendo l'organizzazione di tanti settori, compreso quello sanitario. Il tema dell'interruzione di gravidanza farmacologica e della diffusione dei servizi sul territorio e il tema del personale, della programmazione, delle necessità, del fabbisogno di personale nei prossimi anni per la sanità toscana. E questi sono tre. A proposito di sanità, rimbalza anche qui il caso Vlaovic. Il giocatore non avrebbe informato del cambio di domicilio da Firenze a Torino durante la quarantena per Covid e dice l'assessore Pezzini l'ARAS ha trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria. Era stato il capogruppo di Fratelli d'Italia Torselli a porre la questione. Mi aspetto che venga trattato come un normale cittadino, come tutte quelle mamme che tutte le mattine hanno a che fare con i tamponi dei figli per far ritornare a scuola, come tutti quei liberi professionisti che ogni giorno che stanno a casa perdono una giornata di lavoro che nessuno mai gli ritribuirà, come tutti quei lavoratori che hanno a che fare con i siti, con le problematiche sul rilascio del Green Pass, che queste regole vengano applicate anche a chi di professione non fa l'avvocato, l'ortolano o il muratore, ma fa il calciatore da Juventus. Dal Consiglio regionale arriva anche una spinta per realizzare il collegamento veloce col treno tra Firenze, Pisa e Livorno. Ne aveva parlato anche Eugenio Gianni a margine della conferenza stampa sul piano di ripresa e resilienza. Innanzitutto, prima di arrivare alla linea veloce che significa realizzare un binario e conseguentemente risorse non possono che nascere da leggi del Parlamento e da una volontà specifica che noi solleciteremo, ma che deve raccogliere il Governo, è importante lavorare sull'esistente e quindi con delle infrastrutture digitali adeguate velocizzare magari da 50 minuti ai 45 minuti quello che è il percorso di un treno che va direttamente fra Pisa e Firenze. Ci lavoreremo perché è importante perché questo è l'asse centrale della Toscana. In aula, in consiglio, c'è un plauso bipartisan anche se, come abbiamo sentito, il progetto non rientra nel filone del piano di ripresa e resilienza e andrà verificato nel tempo. Sarà un'infrastruttura anche a disposizione delle merci perché, per esempio, se andremo in una direzione di potenziare il porto di Livorno con Darsene Europa o cose del genere evidentemente il fatto di poter collegare la zona della città metropolitana, qui non soltanto Firenze ma tutta l'area metropolitana al porto di Livorno anche nella sua veste rinnovata chiaramente poterlo fare nella maniera più veloce e senza andare a creare ingorgo sulla linea già esistente perché evidentemente l'aumento del trasporto merci tra Firenze e il porto di Livorno andrà evidentemente a creare ingorgo sulla linea esistente. Il Consiglio ha approvato anche i bilanci dell'ARPAT e con una risoluzione ha chiesto l'impegno della Giunta a sostenere il settore della ceramica un orgoglio del nostro artigianato tradizionale altre emozioni riguardano la difesa di Latte Sanginese che a Capannori dà lavoro a 26 persone ma sul fronte del lavoro purtroppo c'è molto altro oltre alla crisi. Sì, l'emergenza più grande è quella delle morti sul lavoro tante in un'escalation terribile che riguarda tanti settori diversi l'ultima tragedia a San Marcello Pistoiese in una cartiera aveva 58 anni Sandro Maltagliati la vittima era ormai vicina alla pensione straziante il racconto dei suoi colleghi di lavoro ha dolorato il primo commento delle istituzioni regionali. Il Presidente Mattarella ci ha detto una cosa forte ci ha detto a ognuno di noi nelle istituzioni in cui siete ponetevi un interrogativo sul perché continua a succedere tutto questo in quel minuto di silenzio io la domanda che mi ponevo oltre alla preghiera era questa cioè noi qualche anno fa abbiamo fatto un protocollo sul marmo ve lo ricorderete in cui sostanzialmente mettevamo anche risorse pubbliche facevamo lavorare insieme tutti i soggetti interessati in quel comparto c'è stato un grande calo delle morti sul lavoro io penso che questa attenzione l'assessorato al lavoro e l'assessorato alla sanità devono metterlo anche per altri comparti come quello metalmeccanico ma non solo abbiamo fatto una legge come vi ricorderete quindi ognuno può fare la sua parte questo è vero per quanto riguarda i rider la prima legge in Italia sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che stiamo attuando proprio in queste settimane in questi mesi con dei protocolli ad hoc per garantire a quelle ragazze e a quei ragazzi il cui luogo di lavoro è la strada maggiore sicurezza Dopo il giorno della memoria quello del ricordo che viene celebrato con una seduta solenne del Consiglio regionale in collegamento c'è il giornalista Tony Capuozzo non gira intorno al problema dice che come comunità nazionale abbiamo fallito non abbiamo fatto una giornata condivisa nel rispetto del dolore anche quando è un dolore degli altri l'odissea dei profughi la racconta Guido Giacometti di referente per la Toscana dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia nel 1948 fu costretto all'esilio si trasferì a Pisa Ci siamo sparsi un po' per tutta l'Italia e un buon numero credo circa un 70.000 anche all'estero all'estero ovunque fine in Australia e così via perché c'è stato l'esodo allora tutte le storie possono essere molto complicate e anche molto semplici la cosa fondamentale come ha detto Churchill è caduto una cortina di ferro che è partita da Stettino sul Baltico fino a Trieste sull'Adriatico quindi noi siamo stati gli unici di lingua italiana che siano rimasti in massa al di là della cortina di ferro e come da tutti i paesi in cui c'è il comunismo la gente cerca di andarsi noi abbiamo avuto un privilegio che il trattato di pace dell'articolo 19 prevedeva che quelli di lingua d'uso italiana potessero andare via è chiaro che questo non era è una dizione che permetteva assolutamente l'autorità di giocarci in aula ci sono il presidente del consiglio e quello della giunta regionale convinti che è molto importante ricordare quei fatti io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più io prendo in prestito le parole del presidente Mattarella che lo scorso anno insieme al presidente sloveno mano nella mano la potenza di quel gesto mano nella mano ci ha mandato un messaggio forte che le sofferenze i lutti lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato è una testimonianza fondamentale quello della memoria perché gli italiani sappiano quello che è accaduto che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti gettati in queste cavità carsiche dette foibe e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a essere a costringere gli italiani a uscire da quelle terre pensate che fu proprio il piroscafo dal nome toscana che rimane emblematico dell'esodo appunto di 400.000 persone dall'Istria dalla Dalmazia io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'Italia Dante ricorda proprio nella Divina Commedia nel nono canto dell'inferno l'Italia come un paese dalla Sicilia a Pola sia oggi sempre caratterizzata in un'epoca di pace comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la seconda guerra mondiale a venire via e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto proporremo altre interviste su questa celebrazione tra una settimana saremo ancora in onda venerdì 18 febbraio alle 21.15 dopo il telegiornale grazie a tutti Grazie a tutti.